Tutti a casa felici e contenti. Gli organizzatori del Bike Festival annunciano con orgoglio l'ennesimo record. I visitatori a Riva del Garda hanno toccato quota 45.000, numeri entusiasmanti anche per il Garda Trentino, che si consacra ancora una volta terra eletta per i biker di tutto il mondo. I 160 espositori tirano il fiato dopo il festoso assalto degli appassionati nel nuovo Expo, per il cui assetto si è dimostrato vincente, regalando al pubblico la possibilità di conoscere e testare il meglio di quanto offre il mercato. Contentissimi anche gli operatori locali, ristoranti e alberghi hanno registrato quattro giorni di tutto esaurito, come preludio di un'altra stagione turistica scintillante. Anche il tempo ha tenuto, consentendo agli appassionati di godere a pieno l'atmosfera dell'evento. Il Bike Festival 2017 va così in archivio e già si pensa a quella del 2018, all'edizione del 25ennale, che vedrà confermate data e durata, ovvero dal 28 aprile al 1 maggio 2018.